Ciao, sono Marta e sono rappresentante in giunta di Dipartimento di Scienze e Alta Tecnologia presso l'Università degli Studi di Insubria. La mia esperienza è iniziata due anni fa, quando un gruppo di studenti che aveva già intrapreso questo percorso mi ha proposto di unirmi alla loro lista e di candidarmi con conseguente lezione. In questi due anni ho imparato come sia importante dare voce alle esigenze degli studenti, portando alla luce le varie problematiche dell'Ateneo. Da una parte questa esperienza mi ha permesso inoltre di conoscere e di confrontarmi con altri studenti, con i quali abbiamo proposto varie attività legate a temi di attualità. Dall'altra ho imparato come si struttura l'Università, suddivisa nei vari organi di governo, ognuno dei quali ha un ruolo ben specifico. E essendo ormai al termine della mia candidatura, vi propongo ovviamente questa esperienza, che porterà a una crescita sia dell'Università che personale.